Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial su After Effects L'effetto di oggi è un effetto molto molto bello, molto molto particolare che non ho mai visto su internet, non ho mai visto un tutorial su come realizzarlo e devo dire che sono riuscito davvero ad avvicinarmi molto all'effetto originale Vi sto parlando dell'effetto che si vede quando nei film dell'Hobbit si indossa l'anello quindi quell'effetto un po' sfocato, un po' fuori dal mondo Le tecniche che vi mostrerò io sono tecniche molto semplici usando praticamente solo strumenti già dentro After Effects quindi state tranquilli Iniziamo subito col tutorial Quindi l'effetto che vi andrò a mostrare è simile a questo, vedete? Le eco, la sfocatura e tutti i piccoli dettagli Vi faccio vedere subito un confronto rispetto a quella originale all'effetto originale e quello che vi farò vedere Questo è l'effetto che andremo a creare mentre l'originale è così Quindi iniziamo subito, clicchiamo il pulsantino qua per creare una composizione la chiamo tutorial gli do un 1920x800 così non devo mettere letterbox Durata 10 secondi, framerate quello che vi pare e facciamo ok Lo metto nella mia cartella tutorial e per comodità prendo il mio footage copio e incollo di qua Il video da cui partiremo è questo qua Vi dico già che intanto taglio l'area di lavoro così e ho il mio spazio Lavorare su un file del genere quindi già compresso, già corretto con tantissimi artefatti eccetera non va assolutamente bene Io lo faccio perché così per voi è più facile immedesimarvi in quello che vedrebbe il personaggio Però non fatelo mai quindi utilizzate sempre video non compressi Comunque avete capito quello che intendo Quindi la prima cosa che ci serve è un echo Selezioniamo il nostro livello e lo duplichiamo con command o control D Invio e lo rinominiamo echo Andiamo su effect time echo Nascondiamo il livello Spegniamo il livello originale e concentriamoci su questo Numero di echo lo mettiamo 48 e vedete che 48 echo tutti i sovrapposti così creano questo ammasso e qua iniziate già a vedere i pixel Comunque non è lo scopo principale di questo tutorial Quindi starting intensity la mettiamo a 0,44 e decay a 0,8 Echo time invece togliamo questi 333 e mettiamo 48 Lasciate stare a quello che vedete qua e questa è l'immagine che andremo a sovrapporre Se lo notate vedete che ci sono questi quadratini bianchi ciò significa che c'è della trasparenza Quindi cosa andiamo a fare? Riabilitiamo il livello originale Andiamo in toggle switches mode In mode dell'eco mettiamo luminosity Prendiamo il livello e lo shiftiamo di un fotogramma oppure potete fare di quanti fotogrammi volete Visto che c'è questo frame vuoto vado un avanti e taglio Vi faccio notare una cosa Se voi volete più di questo eco non dovete fare altro che aumentare i parametri qua a vostro piacimento Dovete modificare la starting intensity Il decay che vedete è più o meno quello che fa tutto Ora è 0,8 Volete mettere 1? Forse 1 è un po' troppo Mettiamo 0,82 Vedete che aggiunge E dovete modificare anche questo echo time in secondi Comunque andiamo avanti Per quello che andremo a fare noi Questo ritardo va più che bene Quindi command y per un nuovo solido Questo sarà il nostro displace Make comp size Il colore non importa Ora clicchiamo toggle switches modes E dove c'è questo cerchietto bianco e nero lo clicchiamo E questo automaticamente diventerà un livello di regolazione Applichiamo l'effetto turbulent displace E cambiamo i valori Allora amount deve essere a 8 Size invece deve essere a 35 Indicativamente Vogliamo aumentare un pochino la complexity E per animare l'evoluzione di questo disturbo Vedete cosa fa Facciamo Teniamo premuto alt E clicchiamo sul cronometro di evolution Quindi nel campo dell'espressione Scriviamo time asterisco 50 Per uscire dal campo dell'espressione Clicchiamo fuori In questo modo Vedete Se guardate la rotellina qua Che gira Gira progressivamente Se volete aumentare la velocità Qua potete mettere 80 90 100 Quello che vi pare E andrà più veloce Quindi questo è il nostro displace Adesso abbiamo bisogno di creare Una blur Cioè una sfocatura Che sfocherà un pochino tutto Quindi Command y Nuovo solido Questa è la nostra blur Colore Ne mettiamo uno a caso Proprio Senza Senza preoccuparcene Lo rendiamo anche questo Un livello di regolazione E tra gli effetti Che gli dobbiamo andare a dare Ci sono La Radial La CC Radial Fast Blur Vedete un pochino Quello che fa E Una semplicissima Radial Blur Questo può dare un po' di variazione Dunque Partiamo con la CC Radial Fast Blur Quindi Alt click Sul centro E diamo un'espressione L'espressione deve essere Wiggle Scritto così Aperta e chiusa parentesi E tra le parentesi Scriviamo 1,500 Questo significa che Una volta al secondo Cambierà a caso La posizione In un raggio di 500 pixel Poi Altre cose da cambiare Diamo un'altra piccola espressione All'amount E anche questa deve essere Wiggle 1,7 Zoom Qua anziché standard Scegliamo Darkest Qua Il tipo Deve essere Zoom Il center Deve avere La stessa espressione Di prima Quindi Possiamo anche copiarla Wiggle 1,500 E amount Qua Wiggle 1,5 Ecco qua La blur però Non la terremo così Quindi Command y Creiamo un mascherino Lo chiamiamo Matte Questo lo facciamo Bianco stavolta Perché è più comodo E applichiamo Un Fractal Noise Un disturbo Frattale Allora Qua Mettiamo Il contrasto A Facciamo Un 600 Qualcosa 700 678 Va bene E aumentiamo Un pochino La brightness Ok Transform Apriamo Il pannello Transform Togliamo Uniform Scaling Così possiamo Cambiare Questi Slider Come ci pare E Per dare Un pochino Di variazione In scale width Alt click E facciamo Un'altra espressione Di wiggle Però stavolta 1,10 Date un'occhiata Vedete che fa Un pochino Che si muove Con una Frequenza Di 1 al secondo Anche qua Vogliamo aumentare Vogliamo Variare L'evoluzione Quindi Alt click E espressione Time 50 Questo è Quello che abbiamo Ottenuto Blur deve trovarsi Sotto il Livello Con il fractal noise E in track matte Scegliamo Luma matte Selezioniamo Selezioniamo il livello Blur Premiamo T E abbassiamo un po' L'opacità Perché non è necessario Avere tutta L'opacità Al 100% Visto che è troppo Quindi Proviamo con 40 E vediamo Con cosa usciamo Quindi andiamo avanti E a questo punto Possiamo iniziare A cambiare I colori Quindi Altro solido Questo Lo chiamiamo Color E Come prima Lo rendiamo Un livello Di regolazione Iniziamo Con un effetto Hue Saturation Qua Quello che vogliamo fare È diminuire La saturazione Nell'effetto Originale Se vi ricordate Non era Completamente Desaturato Quindi Un Meno 65 Dovrebbe fare Al caso nostro Anche quella Globale Ovvero La luminosità Globale Possiamo diminuirla Un po' Basta di Meno 5 Ora Prendiamo Questa Questa Rotellina E Cerchiamo La tonalità Una tonalità Un pochino Blu Io ho notato Che è Leggermente Più a sinistra Ma dipende Anche dal video Originale Una volta fatto Quello Applichiamo Delle curve Quindi curves E le trasciniamo E qua Vogliamo fare Una semplice Curva di contrasto Molto molto Semplice E Applichiamo L'effetto Add grain Vedete Che aggiunge La grain In color In color Mettiamo Monochromatic Così A un solo colore Intensity 0,3 E Quando siamo pronti Andiamo in Viewing mode Final output Quello che possiamo Possiamo fare Adesso E aggiungere Un bagliore Quindi Command Y Glow Questo deve essere Un livello di regolazione Applichiamo Una Fast Blur La Aumentiamo A 80 Repeat Edge Pixels E Applichiamo L'effetto CC Composite Composite Original Lo mettiamo In Add E Quando Siamo soddisfatti Del raggio Del nostro Bagliore Che possiamo Regolare Da qua Premiamo T Sul livello Bagliore E impostiamo L'opacità Ad esempio 20 Vedete Che questo Bagliore È leggermente Diverso Da quello Dell'effetto Originale È molto Più Semplice E Veloce Soprattutto Direi Che Abbiamo Aggiunto Tutto Facciamo Un'anteprima E direi Che Questo Più o Meno È l'effetto Che Cercavamo Ovviamente Voi potete Cambiare Gli effetti Come vi Pare Soprattutto Vi consiglio Di Sperimentare Con l'effetto Eco Per fare Delle Degli Eco Molto Molto Più Lunghi E Cercare Di Avvicinarvi A un risultato Più Più Quindi detto questo Il tutorial Di oggi È finito Spero Che Vi Sia Stato Utile Spero Che Abbiate Imparato Qualcosa Perché Questo Effetto È Molto Particolare E Come Ho Già Detto Non Ne Ho Mai Visto Non Ho Mai Visto Un Tutorial Su Come Realizzarlo Se Volete Restare Aggiornati Su Declare E Ribe F S Sat